Aumentano positività e ricoveri nel Tiguglio, oggi sono 48 nuovi casi nel Levante dove ci sono 6 pazienti in più all'ospedale di Sestri Levante, 51 ricoverati di cui 8 in terapia intensiva. Sempre nel territorio dell'ASD4, oggi le sorveglianze attive sono 471 come ieri. Nel bollettino diffuso da Regione Liguria ci sono anche 3 decessi, 3 uomini di 73, 78 e 85 anni morti nel fine settimana appena trascorso all'ospedale di Sestri Levante. Oggi sono 48 e ieri erano 7 i nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio dove ci sono 6 pazienti in più all'ospedale di Sestri Levante, 51 ricoverati di cui 8 in terapia intensiva. Sempre nel territorio dell'ASD4, oggi le sorveglianze attive sono 471 come ieri. Nel bollettino diffuso da Regione Liguria ci sono anche 3 decessi, altrettanti uomini di 73, 78 e 85 anni avvenuti nel fine settimana appena trascorso all'ospedale di Sestri Levante. In totale in Liguria ci sono stati oggi 360 nuovi casi di persone positive al covid-19 su un totale di 5.027 tamponi molecolari processati. Il bollettino riporta in totale 6 decessi nel weekend. Le guadigioni sono 404, il totale degli attualmente positivi scende a 6.550. Salgono i ricoveri. Oggi in Liguria sono 669, 9 in più di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 65. E' il turno delle persone tra i 75 e 79 anni per prenotare le vaccinazioni anti-covid-19. C'è stato il via ieri sera sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e da questa mattina si può procedere anche attraverso CUP Farmacie e il numero verde è 800-938-818. ASL4 intanto precisa che la vaccinazione anti-covid sarà poi effettuata nelle quattro sedi AB, includendo anche Santa Margherita Ligure, in un elenco che comprendeva inizialmente solo Rapallo, Chiavari e Sestri Levante. Si conferma però anche, come è stato per gli ottantenni, l'organizzazione di centri di vaccinazione per i fedici nei vari comuni minori, dove i cittadini tra i 79 e i 70 anni non dovranno prenotarsi perché saranno chiamati direttamente dagli operatori ASL. Da lunedì 29 e martedì 30 marzo, stessa cosa per le persone tra i 70 e i 74 anni riceveranno la visita a domicilio della squadra vaccinale, i pazienti in carico al servizio di assistenza domiciliare, al servizio cure palliative, i pazienti con disabilità gravissima e fondo regionale della non autosufficienza, nonché eventuali situazioni di fragilità segnalate dai distretti sociali del comune. Si presenta in pessime condizioni, con numerose buche potenzialmente pericolose per i cittadini e per i mezzi di soccorso, la strada interna dell'ospedale di Sestri Levante. Il consigliere comunale e metropolitano di Fratelli d'Italia, Marco Conti, sollecitato anche dalle pubbliche assistenze del territorio, ha scritto al direttore generale dell'ASL 4, Paolo Petraria, per segnalare il problema. Già nel settembre del 2019 Conti aveva inviato un'analoga segnalazione all'azienda sanitaria locale, ma la promessa di una nuova asfaltatura era rimasta incompiuta. Il consigliere comunale di minoranza Sestri Levante, dunque, chiede alla ASL 4 di intervenire al nosocomio di Sestri Levante in maniera radicale con il rifacimento dell'asfalto di tutta la strada. Autostrade per l'Italia non ha ancora fornito a Regione Liguria un cronoprogramma per il ripristino delle barriere antirumore rimosse da tempo nel nodo autostradale di Genova, a seguito di un'inchiesta della Procura dopo il crollo del ponte Morandi. Lo conferma l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone stamani in consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione dei consiglieri Sergio Rossetti del PD e Sandro Garibaldi della Lega. Regione Liguria a gennaio 2020 ha chiesto ad ASPI un cronoprogramma certo dei lavori, ma dopo un anno non è riuscito a ottenerlo. Non esiste un cronoprogramma definito, stigmatizza Giampedrone. La sola indicazione generale che abbiamo ricevuto è che i primi interventi di sostituzione delle barriere fonoassorbenti in area genovese sarebbero dovuti essere effettuati non prima del primo trimestre 2021. A febbraio 2021 abbiamo inviato un nuovo sollecito ad ASPI e al MIT, evidenziando i disagi vissuti dai cittadini e riscontrati dai comuni. Abbiamo chiesto, conclude l'assessore, nuovamente di avere un cronoprogramma dei lavori, siccome le reinstallazioni comportano cantieri che devono essere ricomprese nel tavolo di accompagnamento ai cantieri sulle autostrade che Regione Liguria ha attivato per calmierare gli interventi. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Luca Garibaldi, ha illustrato in Consiglio regionale un'interrogazione con la quale ha chiesto alla Giunta regionale quale iniziative intende assumere per la ritardata approvazione del bilancio di previsione 2020 del Parco di Portofino. L'esponente del PD ha inoltre invitato Regione Liguria a procedere alla individuazione dei direttori dei parchi Liguri partendo proprio da quello di Portofino. L'assessore regionale ai parchi Alessandro Piana ha risposto che il bilancio è stato approvato dal commissario straordinario il 30 dicembre scorso. La Giunta regionale ha deciso di rinviare ogni valutazione in merito senza esprimere alcuna bocciatura. Il documento ha avuto il parere positivo della Corte dei Conti. Piana, in merito alla nomina dei direttori degli enti parchi, ha sottolineato che competenze degli enti e che Regione Liguria non intende interferire. Concluso per il momento il cantiere di corso De Michi e la Chiavari nel tratto compreso tra l'incrocio con corso Garibaldi e via Jacopo Rocca relativo alla messa in sicurezza dei canali di scolo delle acque bianche. Solo in questa porzione di condotta abbiamo rimosso 2.800 quintali di detriti solidificati e stratificati negli anni, pari ad oltre 16 camion. Un impedimento davvero importante, solo 30 centimetri liberi per il passaggio delle acque piovane a fronte di un'altezza di 1,60 m, commenta il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque Paolo Garibaldi. Grazie ad una campagna di verifiche ed indagine che ha coinvolto tutta la città, è stato possibile analizzare nel dettaglio lo stato di manutenzione dei canali di corso De Michiel, rendendoci conto che nessuno aveva mai attuato le misure necessarie per procedere alla pulizia e alla messa in sicurezza del tratto in questione. Oggi è terminata la prima tranche di lavori, ma continueremo prossimamente verso l'incrocio con via Brizzolara e il sottopasso di via Jacopo Rocca. La nostra amministrazione, conclude Paolo Garibaldi, è passata dalle parole ai fatti, impegnandosi fattivamente per dare risposta ai nostri cittadini messi a dura prova da allagamenti localizzati durante le allerte meteo. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l'assessore comunale alla manutenzione Caterina Peragallo nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di sopralluoghi sulle spiagge libere insieme e tecnici del comune. Lo scopo è stato quello di verificare le condizioni per preparare gli arenili non soggetti a concessioni ad accogliere i bagnanti nel modo migliore in vista dell'estate. In seguito alle verifiche è stato dato corso agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza attraverso la movimentazione e livellamento del materiale lapidio lungo tutti gli arenili. Sempre a Recco prosegue invece lo spazzamento meccanico delle strade. Ieri le operazioni di pulizia hanno interessato via Calibaldi, via Cavour, via Ansaldo, via Avastato, via Revello, via Pisa, via Dei Fieschi e via Doria. In questa prima fase gli uffici comunali stanno provvedendo ad una capillare campagna di informazione per consentire ai ricchesi di non incorrere in sanzioni. Le strade sono infatti soggette a divieti di sosta temporanei nelle fasce rare e nei giorni predefiniti. La giunta comunale annuncia un periodo di tolleranza di quattro mesi, dopo però scatteranno le inevitabili rimozioni. Devo dire in glito pubblico che sono tanti anni che non faccio questa scalinata ripresa da telecamere. È stato teatro di serate meravigliose, le nostre serate che chiamavamo Galà d'estate, ma stasera, stasera oggi, ma poi adesso bravo presenta tu, siamo qui per parlarvi di una cosa seria. È un Galà di primavera. È un Galà di primavera. Entella tv da un paio di giorni è visibile su tutta la Liguria. Allora noi però dobbiamo cercare di capire, state comodi, state comodi, dobbiamo cercare di capire. Dobbiamo andare là perché i telespettatori sono là, non sono dietro. Vai. Dobbiamo cercare di capire, amatorialmente come abbiamo sempre fatto, che cosa è cambiato? Allora Marco, prima fai una panoramica, poi ti facciamo delle domande strette. Allora la panoramica è cambiata già nel 2011 quando siamo passati dall'analogico al digitale. Questo permetteva, nello spazio che prima vedevamo una televisione, la possibilità di trasmettere diverse. Infatti Entra la tv ne ha diverse. Entra la tv sul 17, Tg2 TV sul 117, Entra la tv sport sul 271 e poi il 620, il 621 e il 722, il 620 per chi ama liscio, è dedicata interamente H24 alla musica liscio. Allora però voglio dire è un po' complesso spiegare al pubblico che attraverso una frequenza passano più canali. Allora invece dobbiamo cercare di rivolgere la nostra attenzione a questo piccolo discorso a chi come mia zia di Cogorna accende il televisore e dice fai un po' vede cosa fa in questa serie. Allora fino a qualche giorno fa chi prendeva il telecomando, accendeva il televisore e digitava il numero 17 vedeva Entra la tv. Adesso quelli più moderni, quelli meno moderni no, ma quelli più moderni hanno fatto un aggiornamento quindi chi digita 17 trova il logo di Entra la tv e il logo di New Signal. New Signal è una nuova televisione nata a gennaio e con questa televisione, questa realtà che ha una copertura a livello regionale, cioè da 20 miglia alla spezia e tutta l'entroterra, abbiamo fatto questa sinergia per veicolare Entra la tv su tutta la regione ma sul numero 17, perché il 17 non è una frequenza, è un numero che viene assegnato a un contenuto e quindi l'abbiamo destinato a questo nuovo contenuto, cioè Entra la tv più i contenuti di New Signal. Voglio dire però, alla sera, io accendo, vedo 17, so di vedere sempre la nostra trasmissione o si inseriscono altre frequenze e altre trasmissioni? Non parliamo di frequenze, cancelliamoci la frequenza dalla testa perché non c'entra più niente, il televisore quando fa la scansione sintonizza dei numeri ai quali è assegnato un contenuto, poi che arrivi sul canale o 48 VHF o 24 VHF non cambia niente, quindi il 17 è classico, se uno digita 17 adesso vede un palinsesto un po' rivisto e corretto, cioè ci sono alcune produzioni, vedi fra amici e quindi riconoscibilissime di essere di Entra la tv e altre che sono di questa nuova realtà televisiva. Quindi voglio dire, quando si inseriscono queste frequenze, lo dicano a te che si inseriscono alla tale ora o è automatico? No, 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 giustamente, oggi per esempio è andato il palinsesto di Entra la tv dalle 12.35 fino alle 15, dove abbiamo trasmesso il nostro TG di Guglio, quindi... E lo vedono a Ventimiglia e alla Spezia? Esatto, in tutta la Liguria vedono, infatti mi hanno chiamato da Varese piuttosto che da Sesta Godano mandano, obelite vedem uova. Voglio dire, so che ci sono, non voglio citare, ci sono delle valli quelli mitrofe che si lamentavano che non ci potevano vedere, con questo nuovo signal ci vedono? La potenza è cambiata? No, non è una potenza, è che il nostro contenuto, cioè parliamo di contenuto, che poi sostanzialmente è un programma, adesso è veicolato anche su un'altra rete, questa rete copre capitalmente è tutta la regione Liguria. Quindi quella valle che ti sto dicendo viene coperta da questi... Esatto. Perfetto, mi sono proprio contento perché tutti ci chiedono, tra l'altro abbiamo fatto delle cose bellissime all'interno di queste valli e purtroppo non sono state viste, quindi è un buon augurio. Aveva una domanda, aveva una domanda. Allora, le persone che per esempio in questo periodo di tristezza infinite, di dolori, morti e feriti, abbiamo proposto le vecchie trasmissioni del 2015, che tutto sommato, Franchi, mi pare che divertano. Validissime, è meglio che sentire quelli vestiti di bianco che parlano di vaccini. Ecco, allora, cosa succederà a martedì? Noi ci vedevamo al martedì sera. Allora, il martedì rimane fisso, ok? Però i palinsesti del martedì di Entra la TV e New Signal hanno due trasmissioni alla stessa ora e non possiamo mandarle insieme. E allora, per quello che è la rete, cioè la rete di diffusione o chi non ha risintonizzato il televisore dove sono visibili entrambe le frequenze, vedranno fra amici alle 20.30 e alle 23. Chi invece ha memorizzato il 17 dell'altra rete vedrà solamente fra amici alle 23. Ecco, ho capito. Ecco, però non ha su un seatro perché se non si aggroppiamo su questa cosa. Perfetto, ho capito. Allora, intanto è pregevole che fra emittenti abbiate raggiunto un accordo molto pregevole. No, soprattutto in questa regione perché è una regione difficile. Sappiamo bene che noi nel Tiguglio arriviamo su Monte di Portofino e gli altri sono foresti, come a Deiva, sono foresti, quindi invece aver raggiunto una sinergia tra realtà della stessa regione ma comunque di bacini diversi è secondo me un buon risultato. Quindi mi viene da pensare, Franco, che tutte le varie esterne che abbiamo fatto, a parte Genova, ma nel Ponente, nel Levante, anche nelle Cinque Terre possono essere diversamente fruibili, giusto? Esatto, esatto. Allora sarà tua cura e prometticelo a entrambi, ambedue. Diciamo che queste stelle sono un po' la punta di diamante dentro la TV, quindi come non possono fare un veicolo? È una pennellata di quelle. Che bello, quanto ne date per accentuare? Ci dell'anno passò. Tempo fa, mi ricordo che avevate fatto, c'era il pericolo che le piccole… Il pericolo di sparire c'è sempre. La speranza è che questo, è l'attuale che rimanga almeno fino alla fine del 2022, anche perché il Ministero è un po' pandemia e altro, è un po' in ritardo con i bandi. Diciamo che questi bandi sono tutto meno che democraticamente fruibili, però appunto l'unione fa la forza e quindi in teoria dovrebbero esserci i numeri per poi riprendere quello che avevamo ora. Bene. Ho una curiosità, quante sono le emittenti che fanno parte di questo consorzio? No, le emittenti siamo in due. In due? Poi, Entra la TV è associata a un'associazione che ha associate diverse televisioni in tutta Italia, con le quali collaboriamo, infatti al sabato mandiamo un bel concerto di musica classica, che Franco mi ha fatto i complimenti. però comunque sono concerti di livello e quindi cerchiamo di mettere in piedi un circuito nazionale per dire che, come diceva Giuliano anni fa a Moneglia, le piccole realtà sono quelle che raccontano la verità. È tutto vero e pensate solo che l'egemonia delle grandi emittenti è studiata politicamente, non è casuale per il resto di un belino, perché le emittenti possono in qualche modo veicolare l'opinione pubblica in un senso o in un altro. Noi abbiamo sempre detto quello che pensavamo. Quindi dice che togliere un po' di ossigeno alle piccole è mirato a farle più. Certo, ovviamente. Io lo sostengo da una vita. Ovviamente, ma l'abbiamo sempre pensato. Guarda, una cosa che mi aveva stupito, la prima volta che sono stato negli Stati Uniti negli anni 70, i cittadini americani, la prima notizia che vogliono sapere e volevano leggere in prima pagina, era quella del proprio paese. Poi veniva il mondo. Invece noi ci hanno abituato, prima la prima notizia si parla del mondo, che poi sinceramente lascia il tempo che trova. Quindi a volte trovo anche assurdo che delle piccole emittenti parlino di Roma. Prima dobbiamo parlare proprio da... Del nostro territorio. Da Femegnion, da Benedicione, dell'inaugurazione dell'asilo. Perché la gente allora ti seguirà, perché è inutile sapere delle cose che poi, via via, come le viene a sapere poi da altri emittenti... Infatti sostengo che le televisioni nazionali siano diventate la fotocopia una dell'altra. Sì, una dell'altra. Cioè uno comincia dal numero uno, arriva al numero nove, tutti parlano dei mesi meccos. Mentre invece noi, veramente, guardando queste belle trasmissioni del 2015, che tra l'altro è una cosa meravigliosa perché sono scansionate di un giorno, perché proprio il calendario non coincide. Quindi l'altra sera ci hanno fatto vedere che eravamo vestiti da Carnevale, perché Carnevale di quell'anno lì era Uliaerto, come si dice, e vedere com'è cambiato in peggio il nazionale rispetto a quello che erano queste cose nostre locali, bellissime. Quindi benvenga questa cosa che diamo possibilità di vedere a tutti i cittadini dell'entroterra quelle cose che per noi sono le cose più valide. Tra l'altro questa settimana non metto la data per Casena, non lo sa, e quindi aspacciamo per giù. Spacciamo per noi, ma... Tanto siamo i stessi, siamo i mesi, 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 siamo del tiguglio, ma bellinati non lo siamo, e allora... Allora, non ci rimane che farti gli auguri, perché questa collaborazione fruttifera prosegua alla grande, e non ti auguro di guagnare di ne, perché ti non è mai guagnata, la vita ti non è guagli mai tu. Ti lo sapevo da farne poi, e poi non sono abituato a fare... Ma lascia perdere di ne, però perlomeno avremo modo di... Soddisfazione, sì, infatti. Con la completa, come si dice, acquiescenza del fatto che ciò che abbiamo perso purtroppo temo che non lo riavremo mai più. Purtroppo, va bene, però noi dobbiamo di nuovo essere positivi, guarda, io ho delle idee ancora che faremo quando ci vedremo per fare un nuovo palinsesto, delle idee sempre più mirate a quello che vuol sentire la gente in questo momento qua. Quando dicevo l'altro giorno che il Covid lascerà un sacco di morti, ma non fisici, ma di attività che credevamo che fossero obbligatori, miracolose, la gente si era rimessa di nuovo a fare il pane in casa. Vedrai che ritorneremo di nuovo a fare tante cose come una volta, che sono quelle le più serie e quelle per cui vale la pena di vivere. Va bene, tanto dovevamo al nostro pubblico, come informazione, perché quelli che hanno trovato questo new signal, l'abbiamo detto, cosa le è successo? Mi viene in mente una fidanzata tedesca che aveva, che mi dice, vivi alla Wagner? Alla Wagner? Sì, sì, alla Wagner. Ma da solo, non si chiedeva Ludovic Wagner, si chiedeva Ludovic Wagner. Va bene, dai, devo andare a te, dai. Ragazzi, alla prossima, seguiteci. Dai. Previsioni per domani, mercoledì 24 marzo. Cielo generalmente poco nuvoloso su tutta la regione, salvo locali addensamenti di nubi basse al primo mattino e alla sera, precipitazioni assenti, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso, temperature minime stazionarie sulla costa tra 6 e 9 gradi, nell'interno tra meno 1 e 3, massime stazionarie o in lieve aumento sulla costa tra 13 e 16 gradi, nell'interno tra 9 e 13 gradi.